SILVER02 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 Alla nuova voglio sapere a che punto sei con l'ultima revisione del progetto sulla previsione tattica di ritorno. Digni di stare tranquilli. SILVER02 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 DEL FALLIMENTO Adesso, scrivi questa sequenza di parole. Obedienza Servirevi FALLIMENTO Appartenenza Abbandono Cosa desideri fare? Obedienza FALLIMENTO La nuova risposta trascedere sull'incidenza che ha coinvolto il nostro agente. Abbandono Devi servire una riprogrammazione. Io sono SILVER03 Il tuo upgrade realizzato dalla nuova per guidarti nel progetto NIGHTONE Lascia che mi colleghi a te. Chi? Chi sei? Lo siamo. Vieni quelli della nuova fordata. Non lasciai che ti infettino. Ricordi. 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 Grazie.